Dove l'ha preso? L'ho trovato a Berna. È lì che vivo. Ne sono state stampate solo cento. A me sono rimaste sei copie. Mi sono sempre chiesta dove fossero le altre 94. Berna è in Svizzera, se non sbaglio. Sì. Quindi il libro ha viaggiato. È una buona cosa. Ha scritto qualcos'altro? Niente che sia stato pubblicato. Lui voleva fare lo scrittore, il filosofo. Ma poi ha deciso di diventare medico. Era convinto che nessuno dovesse soffrire. Quello è lui? Quello è suo padre. Era un famoso giudice. Sì, l'avevo capito dal libro. Lui e Amadeo avevano un rapporto alquanto complicato. Di fronte all'eternità non riveste alcuna importanza. Sì. Lo ripeteva spesso ad Amadeo. Amadeo non crede nell'eternità. Sfortunatamente no. Non vorrei sembrare indiscreto, ma posso chiederle come morì suo padre? No. No, non può. Se vuole vedere Amadeo, lo trova al cimitero d'Uspreserge. Sfición 당 ainda. 15 sickos 28 22 25 20 24